Onorevole Malfredi, per esempio, Elvira Savino, Colonnese, Tripiedi, Tinagli, la votazione è chiusa, presenti 368, votanti 327, astenuti 41, maggioranza 164, fuori 326, contrarie 1, la Camera approva. Ho bisogno del parere sull'unico emendamento all'articolo 66.1 Guidesi, Onorevole Relatore. Signor Presidente, invito al ritiro parere contrario. Grazie. Grazie, Governo. Un attimo, Onorevole Guidesi. Conforme al relatore. Grazie. Prego, Onorevole Guidesi. Presidente, facevo per velocizzare un po' il dibattito e il voto, semplicemente perché noi riteniamo che questa proposta poteva essere una proposta che andasse incontro soprattutto a delle situazioni di disagio evidenti, cioè quella dei pensionati che si trovano con un terreno agricolo sul quale ci devono pagare pure l'Imu. Per cui ci sembrava una proposta di buonsenso, noi la teniamo evidentemente e se il Governo ritiene di proseguire con il parere contrario, di certo non ne saremo soddisfatti, ma credo anche che non sarà un beneficio rispetto ad una situazione che è evidente a tutti. Grazie. Mi pare che il Governo non intende intervenire e quindi pongo in votazione, se nessun altro chiede di intervenire, il 6.1 Guidesi, la votazione aperta con il parere contrario del relatore del Governo. Polino Abrignani Crimi Bene. Altri che non riescono a votare?